Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Ninja Gaiden, oggi andremo a fare il quinto capitolo Penso di sì, dai Andiamo! Se non sbaglio usavo Rachel Conosciuta dagli amici anche come Azozza, ah no, la cacciatrice di demoni, scusate Questo l'hanno già letto l'altra volta, bene, con queste ghiapette cominciamo A me già, a me già questa piace, anche se se le piglia, però le dà anche un sacco No, le prende solo Ma di che cazzo stiamo parlando qua ragazzi? Saltano le teste, più che saltano vengono schiacciate da questo... Cos'è? Una picozza, una picozza mazza Ammazza che ammazza! Niente, perché sparano? Siete dei fottuti ninja di merda, perché dovete sparare? Ne lo spieghi? E no? No, scherzavo Niente, questo non riesco a prenderlo Ah, mitraglietta del merda Ah, baffanculo, ah Guardate Ehi, c'è un pertugio! Infiliamoci nel pertugio Andesi spirituale, grazie, mi serve Ah, già che questa c'ha il rampino Almeno non spreco le frecce Piazza del monastero Pensavi di prendermi Ok, 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 ok Eh, sei tornato, golden boy! Guarda quanto mori male Ok Tutto qua? Veramente? Pensavo peggio Allora, qua c'è il monastero, dunque La porta è chiusa Eh, per te pareva Non è che potevi pensare che entravi e va a fanculo No Ehi, un'ombra Mamma mia, ma quanto mi piacciono le combo di sta qua Eh, cos'hai da dire sulle bionde? Sono stupide? Ma ti fanno un culo così, ti fanno Mazzano, pensavo fosse... Non lasciamo stare là A chiave del monastero di Duor Kukane Siamo... Ma... Non lo so, mi sembrava che ci si potesse entrare dentro le fogne Mamma trova le tartarughe ninja Qua adesso ci sarà gente, no? No Ah, eh, te pareva Insomma, pigliava il culo Ecco, ecco Adesso questi... Questi demoni qua me li ricordo E secondo me fanno le stesse mosse dei gatti Quelle che ti volano attorno Secondo me sono loro che... Morti tutti? Ah, questi si Hanno ombra danzante questi qua Si nascondono nell'ombra? Ehi, 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 ehi Ma li allontano invece di... Io pensavo che te li mettesse addosso Ma da dove è saltato fuori questo? Escono dai fottuti pavimenti Ma vai a cagare, va? Davvero? Davvero? Siamo a posto? Hanno finito? E' utilizzato anche il monastero del porcu Di duorcu Duorcu cane sempre Salviamo! Oh, a me sti demoni mi hanno già rotto i coglioni No, no, no Non riesco a fare le combo con questa però Ma è tutto questo Ryu? Dove cazzo è finito? Con la sua spada del drago Che mi servirebbe parecchio No, girati! No, perché... No, no, vabbè Ma sei sfigata del merda, sai? Finiranno mai? No? Ti piaceva, eh? Vaffanculo Oh, ma che è la casa di Rocco Siffreddy questa? Ma statevene di là Va con tutti sti cazzi che volano Hai te rotto i coglioni? Eh, toh E pigliatele un po' di sado Affanculo Una vita non me la dare Perché tanto non me ne serve Dai, va Dammi qualcosa Eh, era ora Taci vostri Qua si entra Qua si entra Qua si entra E c'è Mago, mago Mago, mago Dependance Sentì come lo dice bene Però qua Non posso salire con lei Mi sa Ah, non posso neanche Potenziarlo Qualcuno ha visto Slimer? Passato di qua? Andato a mangiare il cannolo Ok Fa molto Resident Evil 2 questa cosa No Qua ci sarà un passaggio segreto Che si girava dall'altra parte la porta Ehi Subito qua c'è un Ok Allora io mi ricordo C'è una stanza qua dentro Con una scala E arrivano nemici affrotte Ma tipo ci sono 50-100 nemici da uccidere E se li uccidi tutti ti sblocca qualcosa Ho fatto male a non salvare E dopo devo rifarmi tutto Vaffanculo Eh zio Ok Si ha comunque delle belle combo Questa qua adesso Nonostante tutto Boh Ho spregato tutto Vaffanculo Non me ne frega niente Dammi un po' di vita Benissimo Grazie La stanza forse è quella Vabbè essere quella Non mi ricordo Qua adesso Non voglio andare Sentatore di vasellina Sapete Va Vasellina scorre potente In mezzo ai ghiappe di questa Oh C'è solo sta porta Però io l'avevo fatta con Rio L'avevo fatto con Rio sto pezzo Quindi Allora Oh mi fanno fare questo pezzo qua Con lei E questa è la stanza L'archivio Esatto Però mostri non ne Oh cazzo Ma siete scemi Come la merda Vaffanculo Bastardi Dove andare fuori a salvare Dove andare Taci tua Mortacci mia Vaffanculo E adesso no I loro di pezzi De merda Pure Oh ma che Il video di Piper Perry Tutti sti neri E che cazzo Eh Andate a fanculo Ah Mo vedete come vi maneggio la mazza Finito la vita Mi avete fatto sprecare Tutta la cazzo di vita che avevo Ah vaffanculo Ah Sei morto? Ancora no E va a cagare Andate a cagare Va Merde Mi pare paraplegica questa Che è successo qua? Interagisci con i quadri Ma che cazzo succede? Il sangue delle antiche tribù fu Mischiato ai loro tratti trasmesse ai demoni Poi vennero le sorelle gemelle demoni Nikkei Demone della distruzione E Ishtaraz Demone della creazione Si racconti dall'inizio Questo risveglio di una nuova razza di demoni Colora che furono risvegliati per diventare demoni potranno trovare la libertà solo nella morte Rimani comunque fregna Solo nella morte Sorella Gemelle demoni Non è che tu sei Sei tu? Capitolo finito E gli abbiamo spaccato il culo Cacciatore comune Ma vaffanculo Io gli ho spaccato il culo a destra e a sinistra Va bene Ci vediamo con il prossimo capitolo Ciao a tutti Ciao a tutti